ma se tu giocavi a revelation non ti spaventavano esatto però allora non va bene se tu mi fai un revelation cioè dovevano aggiustarlo ribadisco c'erano mille maniere in cui potevano aggiustarlo meglio effettivamente mi spiace ma sta deludendo abbastanza l'aspettativa sì 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 lo sto giocando come un gioco carino perché ho anche moltiplato sicuramente non è ma non è come si dice damer 1998 esatto 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 comunque prima o poi farò perché a sto punto per tenerlo lì non giocando prima cosa farò e lo so per tenerlo lì già che ci ho spesi i soldi mi metto lì mi metto un travel gum sotto a portata di mano io però non capisco che cazzo c'è nella le prese la bottiglia dov'è la bottiglia scusami ma un poco poco più avanti perché qua tu mi dà tutto rosso no ma io sotto dico sotto io ancora tutto rosso non capisco che minchia devo prendere all'aspetto torno indietro non lo sono un tip da però boh il brilio dell'uso delle aspettative delle aspettative altissime lo sto giocando come se fosse un uncharted fondamentalmente eh sì cazzo è un peccato raga già io come se sono molto monitorato su sugli spaventi eccetera quindi ho anche se magari in momenti in cui mi inseguono un po' mi piglio male ma io manco più quello dopo vedo questa me onesto sono spaventato a me miserizza cioè abbiamo un problema perché qua c'è una porta chiusa per quello azzurro per quella in maniera rossa sì va bene la porta è chiusa vaffanculo viene al cazzo anche lì boh vediamo è un thriller che adesso è una roba cioè horror no è tipo scappa dal castello ma sì no ma horror per modo di dire ci fai vanessi stiamo giocando a vanessi poi a me il virus ma lo devo adesso giustificare perché perché c'è qua i mutageni i funghi sono andati un po' troppo oltre che effettivamente è un virus se non è un virus c'è un problema perché diventiamo di landog raga ho preso sanguinare vampiris qua ne hanno mandato un altro in cantina aveva solo rovesciato un po' di zuppa tutti sanno cosa succede a chi viene mandato in cantina non si fa più ritorno succhiano via tutto il tuo sangue la tua anima è condannata a vagare per sempre lungo i corridoi del castello quindi quelle praticamente diventi quella bestia che abbiamo visto sotto ci diventi quando ti succiano tutto il sangue fondamentalmente diventi un ghoul segreti c'è stato buon gruppo segreti sì 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 esatto ha visto ha visto twitch è ma è perché praticamente devo fare così sono andato a cercare l'ho trovata era pelle ossa e masticava le carcasse dei ratti temo che presto arriverà il mio turno lo scrivo a cesco che se vuole vedersi twitch può allora dimmi quando stai andando avanti davanti dovrebbe esserci una valigetta di cani morti dimmi quando 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 una serratura facile da scassinare si apriamo la valigetta a pezzo di pistola eh pazzesco l'ho montata così diventiamo ancora più forti e potenti allora ah più avanti c'è un grimaldello pazzesco hai trovato un grimaldello è poco più avanti e facciamolo usiamo adesso lo teniamo per dopo ah è vero che si consuma ma lo usiamo da adesso se qua c'è un interaggisci eh scassinatore un po' usare questo oggetto qui che cazzo dici mi ha scassinato e ho trovato un angelo di legno ah perché sto facendo una bomba alcheggiata ma che cazzo stai facendo io stavo giù di legno dove mica me l'ha messo di valore bene a saperlo scassinavo un cazzo scassinavo lì quando possiamo andare avanti vabbè rendiamo tutto all'armaiolo e poi allora qua sono entrato nell'altra stanza che vedevamo qua praticamente finiva la demo tu ricordi? non ricordo che mi ero cagato addosso perché allora di qua mi sa interagiamo non andando per fare il cazzo no allora dove doveva mettere sta bottiglia di me? ah no quella avanti non era qua? no no la bottiglia andava messa nella stanza del vino che è sopra aspetta però fammi cercare bene tutta sta stanza che è rossa si si è rossa è rossa ah ma avete rotto il cazzo queste stanze rosse che fa... ah guarda lì l'ho trovato se guardi in alto lo vedi eh c'è rubino eh c'è rubino in alto dove? ah ha trovato anche la cucina è indietro ma ancora datoci ancora aspetta torna indietro che la cucina è rossa porco di c***o ma forse l'ho fatta la cucina aspetta ho dei sbagli e cazzo ce l'ho lasciato questo posto io sono tutto giuro io sono tutto giuro ok adesso anche io allora va bene quindi stiamo tornando all'adrio principale praticamente esatto fondamentalmente si allora quindi dal secondo piano la esatto andiamo al secondo piano quando 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 e arriva la bastarda telo su allora aspetta qui qua allora aspetta qui qua eh sì vabbè allora fichiamo sta bottiglia interagisci non ci sei? eh come 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 Manara no ma aspetta esatto Manara no no aspetta sbaglio sono andato quella con l'occhio sguercio aspetta vabbè dimmi quando sei davanti a bottiglia ma praticamente resident evil village directed by Milo Manara dove vuoi mettere la bottiglia? nel buco di... allora aspetta interagisci va lo stiamo mettendo via aspetta aspetta vai aspetta messo vai messo e poi ah boh e poi qua si apre incredibile permesso permesso che c'è qualcuno allora poi vedo sparo mi sono distanza di salvataggio ma non è vero ah chiave del cortile cortile e dove finiva la demo tu lo ricordi? e dove finiva la demo quindi non tornare la domanda allora adesso quanto ci dai che scendendo sotto ricompare una delle figlie? 100% scendiamo ci fa di nuovo come ci aveva fatto nella demo ti fa I'm watching you guarda eh allora quel... 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 quel busto che abbiamo trovato non lo possiamo ancora mettere di sale no? ah tienilo lì tanto non occupa spazio allora nessuno mi ha detto che mi sta guardando va bene dobbiamo andare nella sala da pranzo precisamente si porco di ho visto lo sapevo sei una cagna allora vieni qua vieni qua come questo ti ho preso senti non lo puoi succhiare più tardi allora io adesso cerco di di superarla e andare esattamente alla chiave del cortile via adesso tanto compare la mamma come nella demo guarda si io ho già superato è la tizia allora non compare la mamma sono nel cortile esatto le puoi dire non puoi uscire vabbè allora siamo fuori dalle sterne vabbè allora è rosso è tutto rosso qua quindi cerchiamo se c'è qualcosa di interessante è normale che si sente solo Beppe attenzione si 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 è giusto spiegaglielo Beppe diglielo vabbè no perché sennò poi nel video si vede due volte glielo scrivo quindi sembra che chi sta guardando adesso senti solo me che parla da sola si sentite che parli come un coglione nel video poi ci monterò anche il mio audio però purtroppo dov'anna così allora qua però ci sono delle robe interessanti sta foto di famiglia ce la possiamo mettere nel culo poi anche il fatto che gli oggetti chiave non occupano spazio nell'inventario eh sì questo oramai è un po' è un po' una scelta stupida perché non è neanche più il problema di reato non c'è più il cassone è diventato Skyrim è diventato non c'è più il cassone ma che cazzo tutto molto semplice non c'è più il cassone per gli oggetti gli danno un valigione ci può stare tutto provo io sono qua nel cortile secondo te se sparo la gabbia degli uccelli provo ok allora se spari le gabbie degli uccelli cadono quindi potevamo farlo anche nel villaggio se ti ricordi quanto pare abbiamo una pistola a parte i tempi dove è questa gabbia degli uccelli tra parentesi? eh boh è qua in uno degli androni e c'è e Beppe c'è quando si fa backtracking in time crisis cos'è che dice? dice e Beppe quando si fa backtracking in time crisis esatto e riconferma allora ma dove sta sta cosa mi sono distratto dove sta gabbie degli uccelli? è in uno sotto uno dei portici qua però è ancora tutto rosso eh senti qua è tutto rosso ma infatti basta basta io proseguo qua c'è una porta vado alla porta basta la porta quella con tutte le cose fighe dovate? no boh c'è una porta di legno è partito un video guardala lì ma aspettami un attimo aspetta che arrivo la porta di legno la porta di legno ah di là aspetta molto fluido dice penso che sia 60 fps beh almeno quello già che stiamo sacrificando il 4k perchè non posso streamare in 4k sempre emotivo con soldi merda allora la porta di legno anch'io chi è quella? vabbè ok attenzione le finestre che danno sull'esterno si possono rompere tutte quindi mi sa che quando ci inseguono le figlie cosa hai fatto a mia figlia? eh gliel'ho gliel'ho stampato nel culo fondamentalmente a tua figlia è successo questo qua c'è una mappa mappa era il castello ah se c'è più avanti di me io sono ancora un po' indietro e sala dell'abluzione stanze private di alcina è il cino dei cobalt allora aspetta allora ehm allora qua ci sarà qualcosa da rompere perchè qua è tutto rosso sniper wolf tanta roba e i proiettili si? pah no sniper wolf bastarda anche lei mi distorce allora 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 qua è tutto blu allora sto aprendo una porta qua no vabbè ma cosa ho trovato dimmi quale? quando arrivi in piscina esatto l'abluzione quando arrivi in piscina sei giusto sei arrivato in piscina sei in piscina sono in piscina questo è pieno di salto da sangue mi immergo tutto raga vai vai abluzione ah si possono interagire con le st- enigma tu dà che è un enigma posso interagire? ah aspetta fammi guardare in giro qua qua è tutto azzurro quindi non dobbiamo prendere un cazzo ah bobo allora niente il bng resta è stato e te interagisci ecco me ne giriamo come crist è che guardano al c- non ho capito probabilmente devi far guardare tutte verso il centro non sto capendo no 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 non l'ha ticciato ieri sera cos'è che l'abbiamo ticciato ieri sera cosa sta succedendo qua io si girando a caso però c'è un modo sicuramente per girarle giusta guardiamo i quadri i quadri che quadri no stai i quadri appesi alle pareti aspetta c'è una scritta mannaggia di Cristo le donne conversano deliziate dal signore a cavallo sono corteggiate da lui i disperati vogliono farsi notare che il vino rosso madonna puttina quindi praticamente le donne e c'è un quadro che lo dice le donne devono guardarsi il cavallo deve guardare le donne le donne devono guardare ma fatto allora ascolta me le due donne devono guardarsi il cavallo deve guardare le donne e i re magi devono guardare il cavallo e deve guardare la donna ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta la maria vergine a posto a posto sto scendendo di sotto ma che coglione stavo cadendo niente stai cadendo un piccio esatto ma qua c'è una capra dove la capra c'è una capra Beppe ma c'è giusto giù la scarapiola pazzesco 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 ci fa il trofeo capra ci pisciamo allora allora sono sceso giù la scarapiola nella registrazione non si vede allora niente boh qua mi immergo eh si come se fosse la cosa più schifosa che hai mai visto no? è tutto azzurro niente qua arriverà qualche bestia io già lo so praticamente qua ci facciamo il vino ecco il sangue dei cristiani ah è la scalapiola tanto lui si diverte siamo cazzate la scalapiola ho visto uno scendere nell'acqua eh ti ascolti mettere e sbatti il cazzo le manci sono delle munizioni l'ho vista che c'è di munizioni prima è la tecca dopo il primo 70 cazzo guglione e qua uuuh adesso crepi tra l'altro è lì questo mi ha un attimo così dall'acqua mi sono un attimo ehi dove cazzo gli hai uuuh pinchia è pieno è pieno tutto in faccia tutto in faccia tutto in faccia sono tornati indietro come un coglione si si vaffanculo cranio cristallizzato ok lei ok gli ho steccato un po' mi rompe un po' del cazzo quella che è spuntata sotto mi ha fatto un po' sfruttare il cuore chi è che rompe il cazzo io quasi che li lascio qua perché mi hanno rotto i coglioni non glielo ammazzo tutti no pianta verde ci diamo un po' di cura ma mi ha rotto il cazzo io vado ah no però qua è ancora tutto rosso aspetta io voglio esplorare esatto io sto esplorando intanto che mi arrivano gli ammazzo uuuuh di nuovo fino a che ti è cilindrato la stessa che fai io ho imparato da rambo ed io mi sono cresciuto quel rambo mi ha fatto più in cazzo ah vado a fanculo però io ho mi sembra di aver tappato dove dovevo andare è un problema tu hai tappato dove dovevo andare ancora mi ha portato la spada come manata del culo vado a fanculo cocco porco sento un cane ma sarà cocco che cosa faccio se il fucile mi avete rotto il cazzo eh allora non capisco perché continua ad essere rosso sto posto ma tra l'altro ho finito la cura allora è ancora tutto rosso poi io l'ho raccolta di roba qua eh secondo me comunque il gioco ha capito che lo sto prendendo per il culo perché con un morso mi hanno fatto più danno e magari più avanti si va ehm e torniamo indieto mi sono bloccato porco di venite tutti qua no tutto azzurro se mi dice come ho fatto io ti dico non lo so distanziamento sociale via tanta roba il trofeo boh ciao raga sono un piacere dico non lo so perché l'ho fatto sto sbascando tutto lo fan riesco a scrivere cosa su whatsapp ma in questo momento per un attimo ah ho trovato e vedi che cazzo parli ci va sto scrivendo cosa su whatsapp ma porco dio ma levati dal cazzo mi sto a rispondere adesso per un attimo mi fai passare per favore grazie oh è diventata mmm no ok raga siete in mezzo ai coglioni che dite allora vediamo non è ancora blu qua no 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 ahia putt madonna ah guarda lì che c'è una cosa da prendere ancora vaffanculo vaffanculo oh tutto azzurro boh ho trovato tutto ok perfetto io ne ho ammazzato uno su dieci però va bene non ne ho ammazzato tutti ho fatto una pulizia boh sono sul balcone ah boh sei andato già su e hai tirato la leva si mi son rotto il cazzo di sta gente basta una certa oh no bel colpo d'occhio raga eh quanta verde ah salvataggio salviamo 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 alcina pavorotti qua allora mille lei ho salvato poi qua c'è una c'è un telefono che squilla mi sento sento delle urla strane fuori da casa della camera mia però va bene dove ho sentito il telefono che squilla? si lo sento ah lo sento anch'io adesso andiamo andiamo a rispondere ma porco il zio pronto? la pincia ah ma eh ma sì e non ti vede no? non ti vede nascosto qui sì però rispondi che poi poi butta giù bech eh madre Miranda eh madre Miranda Il mentecatto di Heisenberg C'è memoria Sei calma Ok Cazzata nera Ti scopo a te e alle tue figlie Devi stare calma Madre Miranda ci ha convocati per decidere il destino del padre della bambina Qui siamo noi Pensare a questa famiglia mi farà brevidire Mi disgusta il pensiero di essere considerata come una sorella di quei miscredenti Soprattutto Heisenberg Quel picciu di merda non ha un briciolo di buone maniere Andrebbe preso a schiaffi Se madre Miranda non lo impedisse avrei già ridotto a brandelli Perché mi tratta come tutti gli altri Lei mi ha dato questo castello delle figlie obbidenti la vita eterna Non sono la sua preferita Non sono speciale Ho bisogno di bere La vita eterna Vabbè C'è o Miranda è una dell'ombrella Che c'è C'è una culla Stanze private di Alcina Attenzione che qua Chiave di Alcina E sta chiave Mi sa che ci può aprire Tutte le stanze Con Con il simbolo Praticamente Dove è sta chiave di Alcina E' appesa al muro Appesa al muro Ma ha detto sta stanza Dove c'è cosa da leggere Ah lì Porco di Marion Tratta Fai questo nel bimbo Che non che non ne è ma qui Ma che non è? Tu maschi Che non diventale e addirizzate Autore Che succedi Che inbolo Inbolo Che 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 Yeah Che 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 Ma non rompermi i coglioni Esatto, fai che cazzo vuoi Tanto mi avete spaccato il cazzo Siamo ritornati Siamo ritornati sotto Che fa? Non è possibile C'ho 102 colpi, Beppe 102 Vediamo io Tu ne hai di più perché di sotto non hai sparato Io ne ho ammazzato nessuno No, io ho ammazzato tutti Tanto se Falconero aveva detto State tranquilli perché non trovate tutto quello che vi serve Allora qua No, c'è di Beneviento, altro che Sì, mica, io mi ero gasato Siamo già a metà Pertanto non usciremo più dal castello Ma che secondo me finisce qua Cioè capisci Avessero almeno fatto una roba Allora, io Guarda, se il gioco prende un'altra piega E dobbiamo affrontarci Tutti Tutti i fratelli lì E ancora un discorso Se veramente Tutto il gioco è qua Quello è dimitresco Vuol dire che non l'ha Cioè, sto gioco l'hanno fatto Per modo di dire Cioè Hanno fatto una demo Hanno fatto Altro che Hanno espanso Maiden E boh Anche perché In quel villaggio C'è un sacco di roba da aprire Ci sono le porte Vediamo Boh, io ho aperto Un'attirata una leva Eh, tira, tira Boh Qua c'è un po' di roba Sì, però non corrono Mano mozzata Vabbè Però apriti Porco No Non puoi usare la mano destra È un problema Vieni, vieni Ti chiedo scusa No, però devi correre, ciccio Corri Dove vado? Ah, è qua Io odio scappare È il porco No Ah, sono davanti Eh, farinculo Vabbè Almeno è tutto azzurro Chiave di alcina Dai Ci fa Come hai fatto? Ah, io ho recuperato la mano Vanno mozzata Cazzo, ridi Ah, spero che sia più piano la porta No, vabbè raga L'acqua ossigenata sulla mano Perché no? No, no, Giuseppe no Scappa Ma che cazzo I le odi le parti Le parti dei seguimenti Le odi È proprio Dai, chiave di alcina Eh, fanculo questo castello Masca della mestizia Chi sto sentendo? Vabbè, buongiorno No, vabbè, la lascia lì Dov'è che devo andare? Chiave della mestizia Sala degli angeli Stanza del mercante Della mestizia Dove hai trovato la chiave della mestizia? Che dici? Ho bisogno di attaccato la mano Ah, maschera della mestizia Eh, la maschera Ma questo si attacca la mano così, raga? Sì, Beppe Ci butta la cosa sopra È la mano attaccata Dai, basta Vabbè, succedeva anche nel set Ma almeno gli dava una pinzata È vero, è vero Il set pinzata No, ma raga, ma così no Ma che cazzo il misto è fantastico Sto andando nell'atile principale Perché? Come perché? Ci dobbiamo andare? Come perché? Ah, io mi trovo, c'è una porta da aprire con la chiave di Cristo Eh sì, guarda nella mappa Dobbiamo andare nella sala degli angeli Ah, aspetta Effettivamente nel cortile c'è una porta che possiamo aprire con la chiave di Alcina Eh, sto tornando indietro infatti Perché? Ah, ma questi mi seguono fin dentro casa, no raga? Ok Però no Ma non lo fate mai più Io li ammazzo Se mi hanno riprodotto il cazzo Maggio la madonna Allora, questi li ammazzo Perché se mi seguono fin dentro casa Maggio ha rotti i coglioni Hai usato il fucile che ho 20 colpi Suca 1 Suca 2 Tanto ha detto falconero Sbattite nel cazzo Raga, 100 colpi, dai Sì Non c'è, non c'ho neanche più voglia di mirare alla testa Ma io Io miro la testa perché Mi ammazzo prima e sento meno colpi Allora, aspetta Usiamo a sto punto Posso crearlo? No Ancora Escalibur qua Però mi sembra non finiscano, eh In questo caso mi avete già rotto il cazzo